Preoccupazione per le affermazioni fatte da Cristian Solinas nel corso di un incontro tra Presidenti di Regione e Ministro per gli Affari Regionali, in cui il Presidente avrebbe ampiamente condiviso le linee dell'autonomia differenziata, così come proposta dal nuovo Governo. A manifestarla il Consigliere Regionale dei Progressisti, Francesco Agus, che a questo proposito scrive al Presidente della Commissione Insularità, Michele Cossa, per ricevere rassicurazioni. Nel documento, Agus sottolinea i successi raggiunti dalla Commissione con l'inserimento del principio di insularità in Costituzione. Nonostante evidenti e mai nascoste tensioni politiche, la Commissione è riuscita a portare a termine il mandato assegnatogli dal Consiglio, ritagliandosi un campo d'azione immune dalle sterili polemiche e dalle inutili divisioni. Uno sforzo che, secondo Agus, ora rischia di essere vanificato dall'approvazione a parole da parte del Presidente Solinas di una proposta di riforma come l'autonomia differenziata che, nel perseguire obiettivi di maggiori poteri e risorse finanziarie per le regioni più ricche d'Italia, annulla ogni tentativo di riequilibrio tra gli alti livelli di sviluppo del centro-nord e la cronica insufficienza degli interventi statali a sostegno di crescita sociale e economica della Sardegna. Il lavoro svolto sino a ora è prezioso per il presente ma soprattutto per il futuro e non può essere vanificato dai comportamenti dei singoli, afferma Agus, che chiede a Cossa la convocazione urgente della Commissione alla presenza del Presidente della Regione per discutere in maniera corale dei rischi per l'autonomia dell'isola derivanti dalle riforme istituzionali allo studio del Governo.